Nella sua giornata conclusiva, la quinta edizione del Matera Sport Film Festival ha fatto tappa a Sant'Arcangelo nel suggestivo scenario di Santa Maria dell'Orsoleo. Il festival quest'anno collabora tra gli altri con la Fondazione Città della Pace dei Bambini. Presenti tra gli altri all'evento Sant'Arcangelese, Michele Di Gioia, direttore del festival, l'amministrazione comunale di Sant'Arcangelo e una grande rappresentanza dei ragazzi ospiti del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Il Sicomoro. Sullo schermo sono stati proiettati film vincitori del festival, nato per raccontare attraverso il linguaggio cinematografico le storie di vita legate alle storie di sport, la cultura e l'integrazione favorite dalla passione in contesti dove un pallone diventa lingua universale tra popoli diversi. E poi ci sono le storie di casa nostra. Quelle che a raccontarle sembrano davvero film, come la storia di Francesco Eterriana Donofrio di Sant'Arcangelo, giovanissimi atleti campioni mondiali in uno sport che richiede forse più di molti altri dedizione e disciplina, il karate. Figli d'arte del maestro Vincenzo Donofrio e di una famiglia che li segue e li supporta, Francesco Eterriana, quest'ultima non presente all'evento perché impegnata in Croazia, hanno toccato il tetto del mondo. La platea di questa sera, dell'evento di questa sera all'Orsoleo, hai dato una bellissima notizia, la vuoi dare anche a noi in anteprima? Sì, a noi è arrivata notizia che il nostro sport, il karate, è entrato agli Olimpiadi. Si saprà per certo nel 2016, però abbiamo ottime possibilità, come non mai, di fare appunto gli Olimpiadi. Per noi è un sogno che diventa realtà perché è l'obiettivo che ci siamo prefissati da sempre. Il nostro obiettivo è quello di portare una medaglia olimpica al nostro paese, alla nostra regione e alla nostra Italia.